Come avete fatto ad arrivare qui? C'è il sentiero! Guarda, è incredibile, alla fine c'era un altro sentiero. Porca troialdo Giovanni e Giacomo! Da che parte sei arrivato? C'è il sentiero! Sì, beh, io lo sapevo che c'era il sentiero. Lo sapevo? Sì. Ma che coraggio hai di dirmi perché non ti sei andato per il sentiero?